e benvenuti a tutti chi vedrà questo video da youtube ci proveremo a giocare due partite col colonia con lalle e se riusciamo anche col bayern 2 ciao Grazie per la visione in sera trattata Allora, in casa bianca e rossa va bene. Gioco a partito. Aspetta un attimo. Andiamo per forza a vincere. Le ho lasciato la formazione che c'era. Andiamo per forza a vincere. Andiamo per forza. Andiamo per forza a vincere. Andiamo per forza a vincere. a ai noi bravo 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 lancialo lancialo non l'ha lanciato lancialo la no lì ma che cos'è lì oh oh no 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 grande bonam vai vai Rex arbitro arbitrus oh ma che cazzo oh sei bravo prova la bomba prova la bomba no 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 oh la bomba di testa vabbè bravo 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 quasi 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 la un'altra testa ma lo passino tira io no no che deviazione cosa ci fa di quappia cosa ci faceva di quappia grande lex torna in posizione oh ha fatto fregare così bravo bravo a pia oh ma no allo scadere proprio bisogna trovare pareggio subito troppo lenta troppo lenta troppo lenta vai non sa perdere tempo bravo 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 vai molders è spicchia la molder guarda che ti faccio trovare schelli no oh oh bravo oh è tutto un rimpallo è tutto un rimpallo questa partita oh oh bravo vai subito 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 no no bravo oh 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 si cosa la metà fa no oh mamma mia Via 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 Bravo, dai che c'è Pia Libero? Non lì, ma perché lì? Dai, subito. Dai, chi c'è? Non si so, vabbè. Ma c'è Lex, mamma mia Lex, come curre? Come curre? Come curre? Ehi, arbitro. Non pensi che sia a fallo? Eh, sì. Ma come lo compra Alex? Vai, Lex. Vai, Lex. Bravo. Quella spinta giusta. Vai, Ovo, su, è il tuo momento. È il tuo momento. Che faticata. Eh, no. Eh, no. Guarda, se mi fate ste cavolate. Eh, no. Non male che poi qua si segnano. Vai, però, devi scattare. Devi scattare. Come ti chiami? Come ti chiami? Newman. Oh, oh. Oh, oh. Bravo. Non c'era nessuno, ma andava bene. Vai, vai, Ovo, su. Ma quando cresci? Non è che mi fa una prestazione da dieci. Vai Newman, chiudilo, chiudilo. No. Cruca il naso, cruca il naso. Si. Chiudilo, chiudilo. Ah, ma non, devi passare però. Ah, io posso, io posso, due, sei. Non ce l'ho posso. Ma porca caccia, miseria caccia. Bravo. Bravo. Niente, Ziegars. Si ha fatto un gol all'inizio del campionato, poi si è spento con Ziegars. E' finita, vai, Ovo. E vabbè. Il viking fosse da sopra di noi. Wedding, wedding game, forse va sotto di noi questi. Non mi ricordo. Però sta sconfitta non ci voleva. Allora, Como, Bologna? Ehi, Undertaker. E' stato bello finché è durato? No. Non abbiamo attuato il piano di gioco. Hanno meritato di vincere. E i nostri sono pure contenti. Bene. Allora. Allora, aspetta, cosa abbiamo fatto prima? Non mi ricordo. Sì. O se dobbiamo fare gli attaccanti? No. Portieri. Ok. Così, salgono. Vediamo un po'. Molders, mister sono facilmente... Mi aspetto di più a te. Eeeh, è vero, Molders. Punto tutto su di te l'attacco. E' vero. Quindi siamo settimi a 22 punti. Eh. Adesso incontriamo... Alle. L'alle che è... In classifica... Non è su... Non è manco giù dove è. Quello lì, l'alle. Eh, il diciannovesimo. Però aspetta, ne abbiamo perso contro? Ah, uè. Z... 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 Wiccau. Che è quarto, comunque, mi sembra. Forse con loro l'abbiamo perso, no? No, con i viking che erano sotto di noi. Eh, vabbè. Dobbiamo vincere per forza. Perché con questa vittoria andremo a 25. Leggiamo il Mappen. Visto che il... Z... 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 Vabbè. Allora. Andiamo un po' ai messaggi. Ginti, impegnato con la sua. Ma se che non lo uso neanche io, Ginti. Allora, la formazione... Lasciamo qui. Chi è Ginti, già? Ginti, Ginti... Ah, il terzino sinistro. Che tanto deve crescere, quindi lasciamo stare. Robosu... E' una delusione. Partiamo a provare una partita. Lex. Zires. 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 Sangu. Ok. E... A piastro adesso non si può fare. Anche destro. E Sangu? Adesso non si può fare. E' una destra centrale. Potremmo spostare... Potremmo spostare... Potremmo spostare... Ma proviamo così. Con Lex come punto. C'è la P. Allora... Questa la dobbiamo vincere. E la vinceremo. Eh... I polentini mi escono abbastanza ausi. Infatti quando le vedo qualcuno basso chiama... Dico... Fammi vedere se mi sono detto... Tutto poco abbastamente... E' un po' che cazzo. Eh... Mulder. Dite l'ora che si vuole venire. Certo. Mi sa che stai facendo la doccia? Ma no... Non so. Non so. Non so. Uh... Nevica. Bello. Nevica. C'è bello. Vediamo. Fino a un certo punto. Lex è scatenato. Vuole dimostrare qualcosa come punta. Uh... Che pazzo. Vai... Cluster. Desi. Aspetta. Di qua non c'è nessuno. Mulder però... Sveglia. 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 Bravo. Sveglia. Bravo. Mamma mia. Vai non c'è giù. Vai non c'è giù. Eh sì. Dai. Bravo. No, non è fallo. C'è la neve, è scivolato. C'è la neve, è scivolato. Mamma mia. No, non c'è la neve. Che traverso. Eh sì. L'ex è il migliore comunque. Il più veloce. Bravo. Newman che cresce finalmente. Una prestazione... Finalmente si fa vedere. Ma no, lì. Deve cercare Mulder che deve dimostrare qualcosa. Eh, eh. Guarda che... Come lo dimostra. Bravo Mulder. Il tuo posto non è a rischio. All'ospizio. Ma il Sangu, almeno tu. Ma vai avanti. Oh, oh, oh. No. Ma porca caccia la miseriaccia. Ma che è quella zonzi della Roma? Vai, uno, due veloci. Dai, 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 dai. Bello. Lancialo. Dai. Oh. E si sblocca anche a piano. Po, 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 po. Grande appia. Non ti ricordi. Mamma mia. Collado. Cosa fa? Guardalo. Mulder. Mulder. Non ti faccio vedere più scheglie. Oh. 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 Insistisci, insistisci. Insistisci, insistisci. Bravo. Bravo. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Siamo venuti qui qui, siamo venuti qui qui, per vedere e segnare il Mulder. pa 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 pa, ahi, era buona, era buona, era buona, pa 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 pa, bravo, ma al primo tempo ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, vai, bravo, preferivo che la bloccavi, ma bravo, apri tutto, quasi tutto, quasi tutto, non ho letto, ma questo è, ah no, è Boyd, oh, io non so, Boyd lo voglio, bravo a pa pa, ma Newman, com'è prima, Newman, com'è prima, come prima, newman, com'è prima, Newman, affan bagno, sono salvati, ero già in porta, il Bayern sta pareggiando, che è il nostro prossimo avversario, tra l'altro, metti io lì, bravo metti io lì bravo, ci sarebbe arrivato eh? ci sarebbe arrivato bravo, che finta, che finta non si è neanche accorto quello della finta c'è proprio ha fatto passare per pietà oh, è che non so, non è che nevica, fa freddo scivolare fa freddo vi bagnate, però a me la fate finta grande tunnel ma cavolo, ma una, una devo stare calmo devo stare calmo bravo, bravo no si fa entrare moll che è un po' moll che piedino eh dai 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 allora i centrocampisti non sono ancora incisivi come dovrebbero essere bello no lunga, lunga, lunghissima è stata lunghissima è stata lunghissima bravo oh, ma al secondo tempo però si svegliano eh non so come mai ma si svegliano al secondo tempo bravo non ti farà battere da sto gigante finta contro finta madonna che bestia ma chi è quello sempre boid no, questo è boid donna, c'hanno dei giganti in difesa questi che grosso è il doppio dei miei bravo dai vabbè, che è un boid non puoi fare nulla ma che bestia che è oh mamma mia si fa entrare Karger chi entra entra non importa cosa riteniamo sta partita no dai, mollida che sei più grosso e tu l'unico più grosso della squadra via, buttala via, buttala via uh chi è? Karger è appena entrato bella, 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 bella bella nooo macca miseria dai, corri, corri, corri corri e bloccalo impara vai a piacca che tu sei più veloce bella bella nell'ultimo secondo proprio vai Mulder vai fuori Mulder vai fuori vai fuori vai sparisci sparisci dai miei occhi madonna chi era? no che schifo cosa fa? non vedo non capisco non vedo non vedo non vedo ma vaffan bagno guardalo no vabbè e questa è la neve è la neve che ha fatto attrito è gigante mai si chiama ok mai lo dobbiamo comprare lo voglio ora mi fisso non lo voglio bravissimo per favore buttiamola giù butta laggiù finita oh meno male meno male è arrivata la vittoria la vittoria e senti a e a me ti sei buciato o sono io si è lavata la roba capito babbuina allora abbiamo pensato la prossima partita sono stati forti abbiamo fatto la nostra partita duncan allora abbiamo fatto i partiti facciamo i difensori oh winter finalmente sole allora ora i centrocampisti i centrocampisti sono stati forti i centrocampisti a sanguì nazionale Grazie a tutti. seguendo i piani, rappresenta un traguardo importante per il scrub, quello che al momento sembra non sopportato, ma sii, ma sii, stai tranquilli, allora dunque il Bayer, ah, il Bayer non è molto forte allora, e quindi ci siamo a 18 punti, noi se vinciamo andiamo a 28, se Mappen e Utenking perdono, li superiamo, bene, facciamo la conferenza stampa, allora, ma guarda che bello, come, Undertaker sembra, Molder riusciva a far dimenticare di tutti, segnerà oggi, sicuro, mi gioco quello che volete, riuscite a coprire il terreno perso dentro la fine della stagione, abbiamo il dovere di provarci, come giudica la vittoria nell'ultima partita, in vista del match contro la squadra Bayer Monaco 2, con la vittoria, è sempre una vittoria, i giocatori confermano una bella prova, vai, bello, spettacolo, il nostro Undertaker, e andiamo contro il Bayer, però, contro il Bayer, io mi porterei, ma facciamo nera per una volta e bianca l'oro, così non sembra più il Bayer, ai nostri, non si spaventano magari, allora, Reader, può fare anche il terzino a destra, no, non possiamo rischiare, però, Ginty, sta salendo, eh, Kindle, qui sono tutti giovani, l'unico che potrei provare è lui, visto che Moll ha giocato, mettiamo lui, in panchino, eh, un secondo, ah, vengo a dare finché non c'è acqua, c'è un tanto, oh, Ginty, oh, mio Dio, Dedy ce l'ha fatto? to, dai, chiamata gentile, gentile, così non la pianta, no, no, io sto giocando con Daxby, mi chiamata pagna, vediamo se c'è le notizie sulle altre, ecco, giochiamo solo noi, che bello, questo è fondamentale per noi, sta partita, che se allunghiamo sul, sul monaco, se riusciamo ad allungare sul, cioè sul Bayer, oh, oh, eh, questo è che è Newman, Newman deve dimostrare per forza qualcosa oggi, piove, come piove qua, piove lì, beh, perfetto, vai, sicuramente confermato l'ex davanti, perché, no, forse era Sangu quello, sono tutti uguali questi qua, vai, spaccati la porta, non la volevo lì però, tira col lado, facci vedere che il tiro ce l'hai, vai, bello, Molder, vabbè, passa col lado, oh, col lado, gli abbutta, ci sta provando col lado, in tutti i modi ma, arriverà il gol, io preferivo il gol di, di, vai, vai, insisti, insistisci, ma che fallo, ma che fallo, si parte di giocare a calcio, vai, lex, e tutti noi, lex, niente, niente, niente da fare, non dobbiamo far recuperare punti, per forza al, bravo, al buyer, vai Molder, vai Molder, vai che gliela prendi, vai che gliela prendi, Molder, niente, niente, liscio, quasi, vai di testa, oh ma hanno tutti giganti questi bravo bravo dove li coltivano sui giocatori bravo Molder che lancio per Sangu eh Sangu non ha il tiro non ha il tiro Sangu però potremmo mettere il tiro vai eh si Sangu prima però sto con anticipalo ma perché no chi si è rotto il difensore migliore si è rotto no no così no ginocchio ciao e ora che entra Belzel l'occasione per Belzel eh vabbè d'altro onda prima o poi dovevo farlo giocare aia speriamo speriamo è bello quando non c'è nessuno che copre Sangu contro giganti non potrà farci niente bravissimo 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 Molder tieni palla lancia Lex bravissimo Lex tieni palla dai ma dai eri da solo eri da solo eri da solo eri da solo ai oh un po' di cattiveria un rotto anche per l'ora e vai lancialo lancialo perché sei da solo Lex cosa cosa un cappè per un cappello eh Christian beh tu come va ah è interrotto perché si è infortunato quello o per il fuorigioco no giusto per capire perché si è infortunato per il fuorigioco è un conto oh 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 ma che fa è un po' che non ci sentiamo eh Christian eh eh dai 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 eh dai però qualche scaramuccia senza palla ma l'abitro non se ne accorge e via si riparte vai Molder vai Molder grande fallo l'abitro eh ah bravo bravo giallo ci sta ci sta ci sta ci sta dai dai ripassato ma quanto sei bah no non così devi di piede devi tirare in mezzo c'è una pronto Molder bravo oh no bloccalo bloccalo ma questo ah è collato ma che è collato oggi che si è svegliato tutto in colpo vai non è fallo piove scivolano hanno svegliato le scarpe vai 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 scatta bravissimo fatti vedere sangu fatti vedere sangu fatti vedere sangu non c'è lex tira ma perché eh impedito non avete sicuro a tua sorella tua sorella madonna 62 non possiamo perdere con questi mamma vai vai calma no 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 ma perché me la passata un po' la voglia sinceramente ero tornato un po' su youtube poi sono lasciato di nuovo youtube e sono tornato su twitch però questi video qua li giro direttamente su youtube non perdo più tempo a montare i giochi bloccalo ma baffa e quindi sono tornato qua su twitch tu come va con fifa stai giocando vai 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 lex vai lex vai lex si ormai tu esci non giochi più la play se la piena di polvere lì sul mobile è l'uomo giusto lex il nostro lex luton eh si siamo in parità ma noi abbiamo fame vogliamo andare subito in serie b il primo one quindi botte 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 vai facciamogli vedere come si gioca ma vai no no aspetta Molder l'ultima possibilità sul calciurangolo ah ok vai Molder 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 troppo qua ehi sei lì Molder eh ciao bravo bravo non so chi sei ma sei bravissimo oh Molder appia Karger via dentro Karger e mi sa che non hanno più cambi Molder fino alla fine l'ultima possibilità se non segno la prossima se la fa in panca vai lex ah hai ripreso tu i allenamenti mia figlia no oh adesso ti reggo un attimo bravo no 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 ma guarda il cronometro ma perché lo devi sempre chiedere quanto manca alza gli occhi e guarda il cronometro no 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 vai Molder eh vai Molder quanto sei brocco proprio ah buono no lei invece no ancora non ha ripreso vabbè alla fine abbiamo pareggiato vabbè comunque una squadra comunque il Bayern secondo è una squadra forte eh ma che bello Cristiano un sembra Undertaker allora continuiamo a difendere Molders eh si vede che ci tiene eh che devo fare in teoria il miglior attaccante che ho l'hai piaciuto a Pia merita tutti i complimenti eh sembra Undertaker no magari to SmackDown il Westling in che modo l'infortunio di Weber infurirà su eh non lo so quante abbiamo più opzioni film dunk cazzo di tedeschio allora otto settimane praticamente ho perso il difensore migliore che avevo per otto settimane ma porcaccia la miseriaccia sozza ok perfetto ne parliamo mettere grazie chi è qua Hillar grazie per avermi rimesso in squadra non partendo di giocare sempre ma ho bisogno comunque di essere convolto spesso Hillar eh mi aspetto di più a te che ne so magari la prossima la giochi non lo so allora andiamo ad allenare no andiamo ad allenare a sto punto dobbiamo rinnovare allenare i difensori perché senza quello siamo rovinati e qua siamo proprio rovinati ah classe ne è salito però è un terzino bene bene siamo rovinati adesso abbiamo pure l'unter hacking che è sopra di noi è a pari punti con noi è a pari punti con noi attenzione chi è adesso rider mi sento bene quindi spero di non mandare in panchina e ci penserò non facciamoci prima la conferenza grazie christian tirante faccio l'ultimo io oh niente stacco stacco adesso allora come ha senso di weber rosa di alta qualità e poi siete pronti per la prossima partita siamo pronti riuscirete a recuperare il terreno perso per la fila stagione ehi che siamo appena all'inizio abbiamo il dovere di provarci eh che devo fare niente visto che devo staccare andiamo a sostituire il centro camp il difensore abbiamo allora un attimo ci sarebbe anche rider però che potrebbe fare il difensore centrale allora berzel weber weber per sette settimane se sta in panchina e abbiamo belcaia un metro e novanta e due piedi debole 4 però poi è salito anche no genti no abbiamo lang che però è giovanissimo e classe ne siete a 60 erdman e 67 berzel wilsh questo wilsh ma poi lo devo cambiare allora reader cdc td e dc se io lo provo io devo fare un tentativo io provarlo al posto di aspettalo zires attaccanti cc comunque non abbiamo attaccanti molto bene molto molto bene molder cosa può fare è solo attaccante lex esterno destro apia esterno destro anche però non mi piace come esterno destro karger esterno destro la sinistra eh ciao prima di fare una partita con reader come esterno destro così reader come esterno destro e prima della partita mettiamo healer perché giustamente che poi healer è anche più giovane e ha più perché io continuo a mettere bonham perché io continuo a mettere bonham piene debole 3 healer piene debole 3 tuffo 69 67 eh ma è più forte perché io continuo a usare bonham niente giocherà healer e niente ci vediamo un prossimo episodio iscrivetevi lasciate un commento perché guarda da youtube ciao a tutti e alla prossima live e un prossimo video bye ciao 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 ciao